A Caltanissetta la polizia ha tratto in arresto un ventenne per violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Nel corso della notte, dopo una richiesta prevenuta alla sala operativa della questura, un equipaggio della sezione volanti è intervenuto per una lite. Gli agenti hanno identificato il ventenne, già noto alle forze dell'ordine, per diversi precedenti penali. Maltrattamenti in famiglia, furto, ricettazione, detenzione di armi e reati concernenti gli stupefacenti. Il giovane avrebbe violato le prescrizioni del giudice, recandosi nuovamente nella casa dei propri genitori, dalla quale era stato allontanato, dopo che i familiari avrebbero subito ripetuti maltrattamenti.